Marco Farsa, anche dall'Abruzzo ci si prepara per un appuntamento di grande rilievo politico per la sinistra italiana, la nascita della federazione di sinistra in un congresso nazionale che si terrà a fine mese a Roma. Certo, faremo 12 congressi territoriali per aree territoriali qui in Abruzzo, in questo fine settimana, partiranno oggi. È una proposta unitaria per rimettere insieme pezzi di sinistra che fino ad oggi hanno vissuto tante scissioni e tanta perdita di credibilità dovute spesso alle crisi e ai litigi in questo senso. La federazione della sinistra è un nuovo soggetto politico che mette insieme Rifondazione Comunista, il Partito dei Comunisti Italiani, Lavoro e Solidarietà e Socialismo 2000 che è un'associazione in cui tutto di riferimento nazionale c'è Sare Salvi. Quindi varie storie, varie provenienze per ricostruire una sinistra di cui in questo paese c'è tanto bisogno. Soprattutto con l'obiettivo di riconquistare la presenza in Parlamento alle elezioni che saranno sostanzialmente quasi certamente a primavera. Certamente, non solo però la presenza in Parlamento ma riportare in Parlamento quelle lotte soprattutto del mondo del lavoro che hanno avuto una loro bellissima espressione nella manifestazione della FIOMMA del 16 ottobre a Roma. Con Vendola? Con Vendola c'è un dialogo, noi pensiamo che si possa ricostruire insieme una nuova sinistra per questo paese però ora lui ambisce invece a guidare un nuovo centrosinistra o forse a guidare il PD, bisognerebbe chiederlo a lui.